Un'interrogazione parlamentare per discutere della tratta ferrata sicignano Lago Negro. A presentare la richiesta l'onorevole Marzia Ferraioli, deputata di Forza Italia, che chiede di intervenire sulla vicenda al premere al Ministro dei Trasporti. Riemerge in campagna, si legge nel documento presentato dall'onorevole Ferraioli, ancora oggi, a distanza di moltissimi anni, la necessità del ripristino di una tratta ferroviaria sicignano degli Alburni in Lago Negro, sospesa nell'aprile 1987, non si sa da chi e perché, in occasione di lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Battipaglia Potenza, sulla quale incideva la stessa tratta. Una vicenda, spiega la deputata Forzista, che ancora dà adito a discussioni, proteste, incontri e ad aspettative dei cittadini di Pollas, alla Consilina, apertosa località turistica di chiara fama per le sue uniche e bellissime grotte, di Padula, località non meno nota per la sua famosa certosa di San Lorenzo, risalente al 1300. Nell'interrogazione, l'onorevole Ferraioli rimarca sull'importanza della tratta necessaria per poter raggiungere i siti turistici e, nel contempo, utile infrastruttura per decongestionare il traffico che si regista sull'A2 del Mediterraneo. L'attivazione della tratta, inoltre viene spiegato nel documento, potrebbe anche essere utile per superare l'attuale necessità di affidarsi a ditte di trasporti locali operanti, si legge, in monopolio assoluto, che con i bus coprono il vuoto nei collegamenti creato dalla sospensione della tratta. L'abbandono della tratta in questione sopprime la libertà di movimento, alimenta il rischio dell'isolamento e, in genera, lo spopolamento dei paesi del Vallo di Diano e delle zone più interne e antiche del Cilento e degli Alburni. Nell'interrogazione viene anche fatto riferimento agli interventi infrastrutturali per il Mezzogiorno a cui sta lavorando il Governo, che prevedono opere su diverse tratte ferroviarie, escludendo invece un'opera immediatamente cantierabile. Può il commissario straordinario ignorare il diritto di godere dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che la Carta Costituzionale garantisce su tutto il territorio nazionale? L'On. Ferraioli, nel suo scritto, ricorda come le risorse potrebbero essere recuperate dal Recovery Fund e dalla programmazione del Green Deal. Risorse, dichiara in conclusione, destinate ad un più ampio progetto di finanziamento per il rilancio delle infrastrutture, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno.